Ciao a tutti ragazzi, sono Andri da lo staff Let's Play FIFA, www.letsplay.it, link pagina Facebook in descrizione e stiamo con oggi con il sesto episodio della nostra serie Shiba's Beast la serie che non facciamo da un po', da un mesetto, ma che comunque non è scomparsa visto che a voi molto spesso piace molto, infatti vi ringrazio dei likes, dei commenti, eccetera eccetera e che torna oggi con un ibrida 4x3 da 15.000 crediti più o meno dove sono presenti il BPL, Liga Turca, Lega Russa, insomma tanta roba, tanta qualità iniziamo subito dal protere della Liga An che è Sirigu Sirigu, 85 il tuffi, 87 riflessi, 84 apprezzamento e anche 79 presa diciamo che su queste cifre, cioè 4.000 crediti più o meno, è sicuramente il miglior protere sul mercato perché oltre a queste grandi stessi in game ha anche un ottimo rendimento, pad alla mano si intende terzino destro, terzino destro andiamo nella Lega Russa a trovare un giocatore non molto usato ma secondo me molto efficace come Fernandes Fernandes alterna un'ottima fase difensiva ma una buona fase difensiva con 81 velocità, 78 difesa, 78 di fisico, 65 di passaggio, 68 di dribbling, 56 di tiro vabbè però il tiro ad un terzino non serve primo difensore centrale, restiamo, anzi torniamo, Liga An a trovare uno che fa strong link con Sirigu avete tutti capito che si parla del super buggato David Luiz 77 velocità, 80 difesa, 78 di fisico, questo difensore ha una garanzia ormai da diversi FIFA e quindi ogni anno in TheCipad Beast c'è sempre lui è bravo sia anche a impostare con 70 di passaggio, è bravo a difendere, è buggato ragazzi, è un giocatore buggato così come quest'anno invece è molto forte, o no, o no, o no, o no, o no, 83 di velocità, 75 difesa, 77 di fisico veramente una carta micidiale, il cui prezzo si aggira sui 1000 crediti e è inutile negarlo questo giocatore si usa principalmente nella velocità, ma anche la fase difensiva, il colpo di destra e il fisico sono molto buone Gibbs, un altro giocatore che è tra i norari che preferisco su questo gioco 81 velocità, 79 difesa, 72 passaggio, 75 di dribbling un terzino molto completo, il cui prezzo è veramente basso e che consiglio a tutti primo centrocampista centrale di questa squadra, andiamo in Lega Turca a trovare Felipe Melo Felipe Melo, 76 velocità, 80 difesa, poi un'ottima forza fisica, veramente migliorata anche nella versione IF che è uscita oggi, da poco nei pack 76 passaggio, 75 dribbling, insomma, ottima caratteristica, un centrocampista che in fase di tradizione veramente non ha nulla da invidiare a nessuno un altro giocatore molto difensivo di questa squadra è Sandro Sandro, 72 velocità, 80 difesa, 84 di fisico è un giocatore molto bistrattato, utile praticamente solo nelle ibride tra Premier League e giocatori brasiliani sì, è vero, io l'ho usato in questa circostanza però secondo me è un buon giocatore perché è vero, la fase di impostazione è meglio che lo lascia qualcun altro però nel recuperare palloni lui è ottimo e anche nei colpi di testa, poi mi ha anche segnato un gol Wiltshire, un giocatore che sa fare tutto lui è il gioco del nostro centrocampo magari la fase di invenzione la lascia gli altri due che sono due bei maschini e lui intanto imposta, sa dribblare sa comunque, ha un buon fisico sa correre, lui praticamente può fare tutto può anche tirare, il tiro non è male un ottimo giocatore, un tuttofare per mille e poco più crediti a destra Torre, non l'avevo mai provato l'ho provato, me ne sono innamorato innamo Torrato pessimo 85 velocità, 81 dribbling, 79 di fisico 69 di tiro che sembra più alto in game 73 di passaggio, 4 selle ski 4 selle debole diciamo che per questi prezzi 500 crediti è un signor giocatore poi in game ha un tiro a giro molto buono dei grossi ottimi, 4 selle ski che fanno sempre comodo 4 selle ski che purtroppo mancano a Giro Rodriguez che rispetto all'altro anno ha subito un'ottima upgrade su FIFA si intende e purtroppo nella vita reale non sta dando il meglio col suo tempo 85 velocità anche per lui 70, 70, insomma un buon valore nel tiro 76 dribbling anche un buon valore nel fisico oltre a 62 in passaggio un'ottima alla sinistra lui e Torre sono veramente due giocatori che costano 1000 dribbling in due e che hanno un ottimo rendimento punto centrale quello che finalizza tutto è Burakimaz ho sbagliato a me trecradoso c'è lui c'è lui perché lui è da FIFA 12 uno dei miei giocatori preferiti 83 velocità 78 di tiro 80 anche di fisico quindi un giocatore che sa prenderla di testa sa tirare sa fare tutto sa anche correre perché un giocatore di velastanza fisica con quella velocità non si vede molto spesso e anche lui costa rende poco un tridente da 1500 in 3 ma che rende veramente tanto questa squadra mi è piaciuta soprattutto per la fase difensiva infatti sei giocatori sono prettamente difensivi vabbè il terzino destro alla fine è uno dei giocatori più offensivi della squadra però Sandro e Melo danno un apporto in difesa che è veramente 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 e dico veramente notevole infatti per essere su foot con questa squadra ho preso veramente pochi gol e comunque ne ho segnati tanti perché Wiltshire si aggiunge al tridente e comunque anche all'inserimento degli altri due centrocampisti formando un reparto offensivo molto buono il tridente mi ha appunto sorpreso perché costano tutti veramente poco ma sono ottimi ottimi giocatori Imaz sa stare in aria segnare di testa segnare coi piedi sa anche abbassarsi e impostare l'azione ha un ottimo fisico insomma Imaz non gliela levi gli esterni dribblano corrono crossano sanno anche tirare all'occorrenza due ottimi esterni la fase difensiva appunto con Sandro e Melo a centrocampo i palloni che arrivano in difesa sono veramente pochi ma anche qualora arrivassero David Luiz e Onowa con la loro velocità non temono nessuno i terzini sono due ottimi terzini perché sanno spingere e sanno anche difendere insomma questa squadra mi sembra molto completa e per un presso sui 12.000 crediti la consiglio a tutti i poteri Siriku non dico che è una saria cinesca ma poco ci manca perché comunque per questa cifra è molto buono poi a certo punto non lo ritrovo a battere le punizioni ero particolarmente ispirato e guardate qua che superschema che tirano fuori Siriku e Imatz mamma mia e qua si esaltano anche le doti di gran colpidore di testa di Imatz bene questo è il sesto Cipad Beast spero che vi sia piaciuto se è così lasciate un bel mi piace e come sempre invito anche a lasciare un commento dicendo cosa vi è piaciuto o no e niente iscrivetevi al canale e bye bye ciao